Che significato ha per una donna tagliarsi i capelli corti? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere. Allora, per una donna tagliarsi i capelli corti è un atto di coraggio, indubbiamente un atto di coraggio, perché i capelli rappresentano comunque una forma di attrazione e gli uomini preferiscono le donne dai capelli lunghi, ovviamente capelli ben curati eccetera. E quindi per una donna tagliarsi i capelli corti, magari a spazzola molto corti, è sicuramente un atto di coraggio che va nella direzione di voler dimostrare, di non voler apparire, di essere comunque una donna in grado di piacere anche se non, diciamo, anche con i capelli corti, è un gesto liberatorio, diciamo così, che arricchisce da un certo punto di vista la personalità. È un atto di ribellione, diciamo, verso il mondo, per così dire, anche maschile o i canoni della bellezza femminile. Va oltre i canoni standard della bellezza femminile. Quindi se vuoi fare un atto di coraggio, tagliti i capelli corti, molto corti, a spazzola. Beh, io non sono donna e quindi non rento in questa sfida. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!